ragazzi fermatevi un attimo però te l'ho già detto dieci volte ci sono dei materiali in edilizia che rovinano le mani anche sono naturali questo qui l'avete levigato ma è pieno di schegge se non ti metti i guanti ti rovini le mani quindi i guanti sono fondamentali va bene grazie